Non è un dossier che sto seguendo io, può essere un'idea interessante, c'è una proposta di legge che secondo me dovrà ribadire quello che per me è scontato, però è ripetita Juvent, che l'oro della Banca d'Italia è degli italiani, non è in prestito, è di proprietà degli italiani, poi per quello che mi riguarda rimane lì. Però siccome ci sono le interpretazioni più varie ed è custodito in alcuni paesi, in alcuni forzieri del mondo, uno lo può far custodire dove vuole, però è di proprietà dei cittadini italiani, non di qualcun altro.